In principio furono i laureati impiegati come netturbini, adesso quasi tutti diplomati, vincitori dell'ultimo concorso per operaio specializzato. Succede alla Barsa, società che a Barletta si occupa di igiene urbana e non solo. Abbiamo muratori, termoidraulici, fabbri, elettricisti. Una grossa linfa per il facility management e il suo rilancio nei servizi affidati dal comune di Barletta alla Barsa. Si tratta degli ultimi 19 posti a tempo indeterminato messi a bando, 17 dipendenti qualificati e due assunti per scorrimento dalla graduatoria precedente tra gli operatori ecologici, il personale al completo, ma solo per il momento. Il fabbisogno aumenterà annualmente perché abbiamo i pensionamenti e quindi avendo esaurito il concorso di operatori ecologici con i 30 posti dovremmo fare un altro concorso di operatori ecologici per il fabbisogno successivo. Dove il lavoro manca e dove invece si trova, ovunque però, dicono alla Barsa, servono studio ed esperienza. Anche qui abbiamo inserito un punteggio specifico per il titolo della laurea, però in questo caso abbiamo avuto la partecipazione di diplomati. Ha fatto la differenza, a mio avviso, l'esperienza lavorativa che per un profilo di specializzazione era fondamentale, contrariamente all'avviso previsto per gli operatori ecologici.